Steph! Dimmi Fere! Ho una sorpresa per te! Davvero? Sì! Guarda! Abbiamo una piscina! Ti piace? Non proprio Fere! È bella l'acqua è fresca! Buttati dai! Arrivo! Dai che c'è un sacco di caldo questi giorni! Ci facciamo una bella nuotatina! Oh che bella Fere! E ragazzi come va? Io sono Fere Niki! E io sono Steph! Che se ti chiamo è Colonist Rival! E benvenuti in questo episodio super mega speciale! Perché come vi avevamo detto abbiamo costruito tantissime cose tra un video e l'altro! E quindi siamo pieni di sorprese per voi! Esattamente! La prima ovviamente è l'acqua nel fossato! Abbiamo trovato il codice per poterla mettere! Dato che normalmente nel gioco non la puoi mettere dove vuoi! Quindi abbiamo scoperto come si fa e l'abbiamo aggiunta! Ed è davvero davvero bella! Poi ve la facciamo vedere anche dall'alto! Era nella guida fornita dagli stessi sviluppatori! Non è vero Fere era nascostissima! E noi non ce ne eravamo accorti ma va bene va bene! Allora questa è la prima novità! Dopodiché abbiamo costruito nuove case abbiamo fatto le nuove mura abbiamo aggiunto tutte le torri che mancavano! Ma ci sono anche tante altre novità! Fere vuoi fare tu da guida o la faccio io? Eh! Dimmi un po'! Allora siccome ho costruito tutto io e tu non hai fatto nulla! Direi che la guida la faccio io! Però non sei molto brava a fare la guida eh! Eh lo so! Quindi cerca di impegnarti quest'oggi e cerca di farla bene ok? Stai insultando! Eh un po' Fere diciamo che è un po' il tuo punto debole però si è stata brava a costruire quindi metta e metà! Dai andiamo! Smetti di tirarmi frecce! Ok allora prima cosa facciamo vedere questa sezione! Ok! Ah le bacche le bacche guarda le abbiamo messe tantissime! Le bacche abbiamo fatto due linee adesso e sono due persone a lavorare ed è molto più bellino! Secondo me la parte più carina però sono questi negozietti qua! Esatto! Esatto! Che non so neanche cosa ci servono due dato che non produciamo abbastanza oro! No! Però Fere si è fatta prendere la mano! Il fatto è che ne ho fatto uno qua perché mi sembrava brutto lasciarlo lì solo con questo cubo! Ci sta! Adesso gli faccio un negozietto poi mi uscito carino e ho detto fai che ne faccio un altro qui a fianco perché così è ancora più bellino! E quindi ne ho fatti due uguali! Come sprecare cibo parte una! Cibo materiali e tutte e tre cose! Perfetto però sono fighissimi mi piacciono troppo quindi sono totalmente approvati! Dopodiché abbiamo le torrette che le ho dovute fare io perché Fere non ne aveva voglia! Ascolta ho fatto tutto il resto io! Torretta numero due, torretta numero tre là in fondo e torretta numero quattro là in fondo! Ci sono tutti e quattro come promesse e sono bellissime! Adesso andiamo nella nuova parte del villaggio Fere o no? Ecco qua! Queste sono due piani perché così non abbiamo più problemi di letti e almeno i nostri schiavetti possono avere un tetto sopra la testa! Facciamole vedere dentro! Ok! Allora interno scalettine qua molto semplici molto carine e di nuovo tantissimi letti! Quindi in questo modo ogni casa vale venti letti quindi venti schiavetti che possiamo farci dormire ed è super fantastico! Finalmente non abbiamo più i letti dove farli dormire fuori all'aria aperta che con sto caldo non è il caso! Poi qua vabbè c'è una casetta da finire perché è work in progress però diciamo questa sembra un po' la zona residenziale Fere sei d'accordo? Sì io poi ho tante idee per questa zona perché secondo me qui davanti si possono mettere altri campi di coltivazione se servono e magari qui un'altra zona negozi questa mi piacerebbe! Sai che io la farei proprio come se fosse un distretto di città quindi soltanto negozi e cose carine e niente cose di lavoro? Allora qui tutti i negozi sì! C'è nel senso niente coltivazioni? Sì ci sta! Ci sta? Ok però allora io ho una novità a sorpresa per te! Cosa? Ok allora prima di tutto sta diventando notte e non sono felice però abbiamo teoricamente una nuova cosa da coltivare che teoricamente ci darà tante nuove possibilità! Tra cui un nuovo blocco che noi non abbiamo ancora mai utilizzato molto 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 bello a livello estetico! Quindi dobbiamo trovare un nuovo punto dove fare una nuova piantagione Fere e poi la proviamo perché allora qui abbiamo le bacche e va bene! Io direi qui dietro qui dietro leviamo questi tre alberelli e facciamo qua! Però teoricamente noi dovremmo fare anche una piantagione di alberi magari lo facciamo verso un'altra parte! Eh lo facciamo sì da un'altra parte! È perché stiamo iniziando ad avere sempre problemi di legna per creare le frecce per difenderci perché ormai voi non avete idea di quanti zombie arrivano alla nocola! Eh sì! Ma poco ve lo facciamo vedere è il delirio! Con tanti schiavetti sono davvero tanti tanti tanti! Almeno 100 frecce a notte le stiamo consumando e quindi tantissima legna! Quindi dici buttiamo giù tutti gli alberi e facciamo qua una piantagione? Questi tre alberi guarda non sono tanti! Va bene! Iniziamo! Li butto giù e vediamo un pochettino di fare la nuova piantagione che tu non sai di che cos'è! Se vuoi te lo inizio a dire! Dimmi! Aspetta! Devo googlare perché sono sicuro! Ma che regnante sei se neanche sai cosa devi piantare! Sono sicuro al 99% che sia ciò che penso! Quindi ho bisogno di google traslettare un attimo per avere la conferma ufficiale! Ok ok ho capito! Dovrebbe essere comunque... Sei un incompetente abbiamo capito tutti! Dovrebbe essere il cotone! Il? Cotone! Uh davvero! Allora vediamo! Flux! Lino! Vedi che stavo sbagliando! Meno male che ho cercato! Lo sapevo che avrei sbagliato! Ok quindi facciamo questa nuova piantagione! Sì! Spera! Creiamo lo schiametto per il lino! Vai! Andiamo! Ok recluta! Vediamo di che colore mette la giacca lui! Viola! Bellino! Non li avevamo mai visti! Teoricamente è lo stesso colore dei flux! Quindi dovrebbe essere giusto! E noi abbiamo già... Ho un po' esagerato sotto questo punto di vista! 600 semi di flux da piantare! Che ci hanno prodotto! E poi ho fatto pure storto il campo! Ti avevo detto due di distanza! E quelli sono due a fare? No sono tre! No da qua? Uno due tre! Vedi che sono scarsone! Hai ragione hai ragione hai ragione! Vabbè pazienza ormai! Guarda come pianta! Non so in quanto tempo crescono però lo sai? Non lo so neanch'io! Ma io vorrei ancora lavorare sull'estetica! Perché mi è piaciuta un sacco l'idea diciamo di creare un edificio dove lavorano i mercanti! Quindi perché non proviamo magari a fare un qualcosa di simile per qualche altro lavoro? Perché ad esempio abbiamo la miniera per chi va a minare ed è troppo bellina! I negozietti per chi deve vendere e fin qua va bene vuoi ricreare qualcosina in più! Allora secondo me per il lato agricoltura non ha senso! No certo certo! Perché è giusto così! Devono stare all'aria aperta e è giusto! No beh l'agricoltura è così! Non è che puoi fare molte cose! Loro tre! E questi che craftano che fanno queste cose! Non ci sarebbero bene dentro un negozio stile fabbro! Capite una cosa molto carina! Secondo me sarebbero fighi loro dentro un negozio del genere! Sì sì potrebbe anche perché sono qua in un angolino sembrano in punizione! Esatto esatto non è molto bello! Invece sono quelli che lavorano di più poveracci! Si lavorano tutto il giorno tantissimo e lui ci fa diventare ricchi quindi si meritano una bella costruzione! Però non saprei dove piazzarla quindi hai qualche idea? Allora secondo me se ne può fare giusto una qua! Piccolino? No una qui abbastanza grande in cui metti i due fabbri! Ok! Che si possono mettere a lavorare assieme! E quello dei soldi lo mandiamo da un'altra parte? No quello dei soldi da un'altra parte! Magari nella zona nuova che abbiamo ancora tanto spazio! Ok! Quindi lo possiamo iniziare a mettere là! Ok mi piace mi piace mi piace! Fede come sta andando? Ho fatto più o meno! Ok vorrei un nuovo blocco! È carina è molto carina però secondo me al posto di questi stone classici che abbiamo utilizzato un sacco di volte potresti mettere dei bricks Fede! Esatto io volevo proprio quelli perché secondo me ci stanno benissimo per la casa del padre! E sai chi ti sta procurando cosa Stef? Cosa? Non riesco a parlare Fede! Non riesco a parlare Fede! Non riesco a parlare Fede! Allora no ti spiego praticamente questo dentifricio che sto usando mi rende la bocca tutta impastata e non riesco più ad aprirla nel modo giusto per parlare in modo fluente Fede! Povero Stef che non ha un buon dentifricio! Quindi capito è colpa del dentifricio! Consolini è colpa del dentifricio! In ogni caso Fede vieni a vedere che cosa ho fatto! Ok! Praticamente ho scoperto che se tu metti nel crafting una persona a creare questo blocco qua che si chiama plaster block Ok! Viene utilizzato da quest'altro per creare diciamo i bricks Ok! Non l'avrei mai detto in nessun modo! È un po' di lavoro molto ampio perché uno fa una cosa e l'altro poi la rifinisce quindi insomma! Vuoi sapere come? Però in realtà non sta funzionando molto bene! Perché come? Perché io... cioè quello sta creando i plaster block però l'altro non li sta utilizzando per fare i bricks! Ok! Quindi sto sbagliando ancora qualcosina diciamo così! Però ci siamo quasi secondo me! E ti volevo dire... Attenderò con ansia! Come sto facendo questo nuovo blocco che è il plaster block che adesso andiamo a vedere se è carino esteticamente! Ok! Praticamente stiamo utilizzando gli stone bricks ok quindi la classica pietra combinata all'egypsum che è uno dei minerali che si trova in miniera Quindi combinando queste due cose possiamo creare questo nuovo blocco che credo sia carino Adesso vediamo lo provo a mettere per terra e mi dici se ti piace! Sei pronta? Sì prontissima! Ho sbagliato Fede! Ti rovina la scena mettendo dei letti in terra! Mi sono confuso col tasto! Guarda evito di tirarti frecce quindi muo... Ma questo è molto carino! Ci posso fare un sacco di cose con sto blocco! Ferre stai già immaginando tutte le costru... Ma te fai nulla di uno Ferre! Ferre che bello! Mi sembrano fiorelli! Anzi sembrano... Ce ne è presente i chiodini con cui giocavi da bambino? Quelli che mettevi in quella piastra bianca? Non ce ne avevi i chiodini? Non lo so come si chiamano! Io li chiamavo chiodini! Sono fatti di questa forma! Ho capito cosa intendi! La piastra bianca dove tu li inserivi e facevi tutte le forme! Sono troppo bellini! Allora amico mio li puoi prendere o non sono ancora pronti? Sì 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 li sta prendendo! Sì sono pronti! Sono pronti! Ok! Ok mi piace molto questa cosa! Tra poco possiamo utilizzare anche i Flax e vediamo cosa tutto riusciamo a fare anche con quelli! Però io devo continuare! Mi spiace per ora metterli qua però non abbiamo una posizione per quelli che craftano! Quindi serve un'altra costruzione a fare che metterei nella nuova zona! Sì sì! Allora stavo pensando di creare anche una persona che crafta quest'olio che appunto si fa con i Flax che ci permette di fare una cosa bellissima! Cosa? Te lo devo dire? Sì! Il parco è pregiato! Uh quello è bello! Mi è capitato di vederlo ovviamente nelle immagini del gioco! È quello è fantastico! È molto più bello di questo chiaro che abbiamo! Lo so oggi è la giornata dei nuovi blocchi! La potremmo chiamare così! Ormai stiamo diventando un regno ricco! Guarda vieni ho fatto una cosa! Fammi vedere! Ho messo il pavimento qua per vedere come ci sta! Questo poi col brick perché ovviamente non sarà questa stone secondo me ci sta benissimo! Vero è molto bello! È molto bello in generale come pavimento ci sta davvero davvero bene! Sono molto felice che ci stia così bene! Vorrei giusto scoprire come fare anche l'argilla per utilizzare appunto i bricks! Però non c'è fretta! Oggi abbiamo scoperto tantissime cose quindi già anche così direi che va benissimo! Fare? Dimmi! Ho googlato un po' e finalmente ho scoperto come si fanno i bricks! Grazie Steph che mi permette di costruire cose belle! Dove sei in miniera? Vieni immediatamente in miniera! Sto scendendo! Praticamente ho scoperto che il blocco di clay semplicemente noi non l'abbiamo mai trovato in miniera! Ah eccoti! Eccoti lì lontanissimo! Quindi noi dobbiamo continuare a scavare verso ogni direzione fino a quando non troviamo la clay! Di che colore è? Allora assomiglia molto a questo che è il gypsum! O questo bianco? Ok sì! Anche perché l'argilla me l'immagino di un colore chiaro! Allora aspetta provo a fartelo vedere aspetta un attimo! Allora! Aspetta un attimo! Perché secondo me è uguale identico al gypsum! Però è diverso! Che devo fare? Allora! È uguale però diverso! È uguale però diverso! Ok! Sì! Allora perché è grigio? Mmm! Fare ho difficoltà! Ma sai che forse è questo? Il gypsum? O è oro! No questo è oro! Allora! Ci arrendiamo Consolini! No mamma! Mi abbiamo scavato in lungo e in largo! Eppure niente! Niente! Evidentemente è molto raro! Non lo so! Guarda di sicuro siamo pieni di stone bricks per non so quanto tempo! Allora io ho provato pure ad andare tipo a minare vicino all'acqua sotto l'acqua per vedere se cambiava qualcosa lontano da qua! Niente di niente! Abbiamo fatto non so quante gallerie ma niente! Però Fere mentre noi costantemente stavamo minando e prendendo tutto quello i nostri schiavetti stavano lavorando e ho un nuovo blocco da presentarti! E non solo ce l'ho ma ne ho 85! Puoi vedere? Quindi ci puoi fare un qualcosa di bello già da adesso! Eh questo sì che questo è bello! Questo è quello che volevo fin dall'inizio! È bellissimo questo blocco! Questo è spettacolare! Bellissimo! Bellissimo bellissimo! Allora con questo blocco ci farò la casa! Ok! Per gli altri lavoratori! Ok! Mi sembra una bella idea! Mi sembra una bella idea iniziare a costruire qualcosa! Ovviamente non posso cambiare tutte le case! Questo è molto pregiato eh! Questo è proprio pregiatissimo! È davvero davvero bello! Mi piace tanto 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 tanto! Quindi allora abbiamo sbloccato questo blocco qua! Ci siamo sbloccati questo blocco qui! Quindi abbiamo queste due novità che sono entrambe molto belle e li inizieremo ad utilizzare per dare un po' di colori al villaggio! Sarebbe anche bello fare secondo me se utilizzassimo il stone bricks e il legno normale nel primo distretto! Ok! Poi nel secondo distretto un'altra tipologia di blocchi e nel terzo distretto la cosa è più proprio super mega bellissime! Ci sta! Cioè dipende poi da quanto sarà semplice ottenere questi nuovi blocchi! Cioè se diventa difficile ovviamente lo otterremo solo per qualche costruzione! Eh ma in generale proprio per dare la progressione capito? Della ricchezza del villaggio, delle diverse zone del villaggio! Secondo me questa cosa potrebbe essere molto bellina! Ti piace come idea? Sì ci sta! Vero? Vero? Secondo me è carino, è carino, è carino! Piano piano evolveremo tutto! Qua devi mettere i fabbri però scusa abbiamo fatto la casettina e non mi li metti all'azione! Allora scusami Fere! Eh dai ci sta! Allora quante fornaci vuoi? Quanti secondo te quanti ce ne devono stare qua dentro? Eh almeno due, tre! Non lo so dipende quante ne dobbiamo mettere! Quante ne sono necessarie? Allora e vabbè necessarie più o meno al... Cioè tipo quattro secondo me! Allora io direi tipo tre! Ma secondo me è così Evelino! Dici solo due? Sì sarebbe forzato aggiungerne! Ok! Anzi aspetta un'idea! Aspetta vediamo se ti piace così! Facciamo tatta! Poi voglio anche due ceste! Ok! Tu fai ta ta ta! Ok! E poi allo stesso modo ta ta e ta! Sì ci sta! Però? Bellino bellino sì 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 sì! Secondo me è carino così è bellino come posto! Mi piace! Mi piace! Secondo me è bellino! È carino! Sì promosso! Bene ragazzi! Se vi è piaciuto un video di lasciateci un like! Se la prima volta che vi mette il nostro video potete considerarvi da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao e alla prossima! Ciao e alla prossima!